Marzo dovrebbe essere uno dei mesi più piovosi dell'anno ma al momento il livello di precipitazioni è pari a quello di luglio e agosto. La primavera è in arrivo ma anche a detta degli esperti quello che stiamo vivendo sembra di più un anticipo di estate. Le temperature minime sono in linea con le medie stagionali ma le massime sono al di sopra della media di almeno 5 gradi. Nei primi tre mesi di questo 2019 le piogge si sono ridotte del 60% rispetto alle medie di stagione il che rende molto alto il rischio incendi. Le fiamme sono divampate in un bosco di Morfasso nei giorni scorsi e oggi è successo a Pradovera. Il Po a Piacenza registra meno 0,1 in base ai dati Arpae e dunque è sotto lo zero idrometrico. I livelli delle dighe di Mignano e del Molato sono considerati nella norma e sono costantemente monitorati dal consorzio di bonifica. Il mondo dell'agricoltura è in apprensione e teme un'altra annata come quella siccitosa del 2017. Oggi quello che ci preoccupa maggiormente sono proprio le irrigazioni di soccorso a cui molti agricoltori hanno dovuto ricorrere su culture molto specializzate e ad alto investimento. Mi riferisco in particolare alla cipolla o piuttosto che al pisello proteico dove purtroppo la combinazione di interventi assolutamente necessari di irrigazioni di soccorso combinate a escursioni termiche giornaliere molto importanti con temperature inferiore allo rischiano di creare problemi importanti. Vittorio Marzio di meteovalnure.it fa sapere che nei prossimi giorni le massime si assesteranno attorno ai 20 gradi mentre le minime toccheranno i 10. Il clima rimarrà soleggiato con qualche nuvolosità in transito solo domenica. Si escludono però le precipitazioni.